Naufragio a largo di vesta di Isaac Asimov Legge Stefano Pedron «Vuoi smetterla, per favore, di andare su e giù in quel modo?» disse Warren Moore dalla cuccetta. «Non serve a niente fare così. Pensa che ci è andata bene, invece. Siamo o non siamo a tenuta stagna qui dentro?» Mark Brandon si girò di scatto digrignando i denti. «Mi fa piacere che la cosa ti rallegri», sbottò con a credine. «Certo, tu non lo sai che la nostra provvista d'aria durerà soltanto tre giorni». Poi riprese ad andare su e giù con aria di sfida. Moore sbadigliò, si stirò e assunse una posizione più comoda prima di replicare «Tutto quello spreco di energia servirà soltanto a consumarla più in fretta. Perché non fai come Mike qui?» Lui sì sa prendere le cose con calma. Mike era Michael Shee, già membro dell'equipaggio della Silver Queen. Il suo corpo tozzo e tarchiato riposava sull'unica sedia della cabina e i suoi piedi poggiavano sull'unico tavolo. Mike guardò in su nel sentire il suo nome. «C'era da aspettarselo che una volta o l'altra sarebbe finita così», disse. «Schivare gli asteroidi è una faccenda rischiosa. Conveniva fare il salto. Ci vuole più tempo, ma è l'unica soluzione sicura. Ma no, il capitano voleva arrivare in orario. Ha voluto per forza attraversarla». Mike sbuffò disgustato. «Ed eccoci qua». «Che cos'è il salto?» domandò Brandon. «L'amico Mike, secondo me, intende dire che avremmo dovuto evitare la cintura degli asteroidi seguendo una rotta esterna al piano dell'eclittica», rispose Moore. «È così, vero, Mike?» Mike esitò, poi replicò. «Sì, qualcosa del genere». Moore sorrise appena e continuò. «Bene, non me la prenderei troppo con il capitano Crane. Lo schermo respingente deve essersi guastato qualche minuto prima che quel pezzo di granito ci venisse addosso. Non è colpa di Crane, anche se avremmo fatto meglio, si intende, a girare a largo invece di fare affidamento sullo schermo». «La Silver Queen è andata letteralmente a pezzi. È un vero miracolo che questa parte della nave sia rimasta intatta a perfetta tenuta». «Hai uno strano concetto della fortuna, Warren», disse Brandon. «E l'hai sempre avuto da che ti conosco. Siamo rinchiusi dentro un decimo sia no di nave spaziale formato di tre soli locali interi, con aria per tre giorni e nessuna speranza di rimanere in vita da quel momento in poi, e hai la faccia tosta di venire a parlare di fortuna». «A paragone degli altri che sono rimasti uccisi appena l'asteroide e ci ha colpiti, ci è andata bene», rispose Moore. «Ah sì, eh? Beh, io ti dico che la morte istantanea non è poi tanto grave a paragone di quello che dovremmo affrontare noi. Morire per soffocazione è un modo tutt'altro che piacevole d'andarsene. Potremmo anche trovare una via d'uscita», fece notare Moore in tono speranzoso. «Perché non guardiamo in faccia la realtà?» Brandon era rosso in faccia. La voce gli tremava. «Siamo finiti, lo capisci? Niente da fare, chiuso!» Mike guardava dubbiosamente dall'uno all'altro, poi tossì per richiamare l'attenzione. «Bene, signori, visto che siamo tutti nella stessa barca, non vedo perché dovremmo fare delle differenze», estrasse di tasca una bottiglietta piena di un liquido verdastro. «Questa è giabra di prima qualità. Sono pronto a dividerla con voi in parti uguali». Brandon mostrò il primo segno di gioia della giornata. «Acqua giabra marziana! Perché non ce l'hai detto prima?» Ma come fece per afferrare la bottiglia, una mano ferma gli serrò il polso. Brandon si trovò a fissare nei calmi occhi azzurri di Warren Moore. «Non fare l'idiota», disse Moore. «Non ce n'è abbastanza per mantenerci sbronzi tre giorni di seguito. Che cosa vuoi fare? Ubriacarti subito e poi crepare bello lucido? Teniamola da conto per le ultime sei ore. Quando l'aria sarà irrespirabile e i polmoni ci faranno male, allora faremo fuori tutta la bottiglia, tra tutti e tre, e non sapremo quando arriverà la fine, né ci importerà di saperlo». Brandon, a malincuore, lasciò ricadere il braccio. «Maledizione, Warren! Tu hai il ghiaccio nelle vene al posto del sangue. Come fai a ragionare con tanta logica in un momento come questo?» Fece un cenno a Mike e la bottiglia venne rimessa via. Brandon si accostò lo blò per guardare fuori. Moore si avvicinò al compagno più giovane e gli passò affettuosamente un braccio attorno alle spalle. «Perché fai così, hm?» domandò. «Non puoi durare a lungo se la prendi così male. Tempo ventiquattro ore e ti salteranno i nervi!» Senza rispondere, Brandon fissava amareggiato il globo che riempiva quasi l'intero oblò. «Non serve a niente neppure guardare Vesta!» Provò a insistere Moore. Anche Mike Shee si avvicinò. «Se soltanto potessimo posarci su Vesta! C'è gente lassù! Quanta distanza ci sarà?» «Non più di cinque o seicento chilometri a giudicare dalla sua dimensione apparente!» rispose Moore. «Non dimentichiamo che ha un diametro di soli 350 chilometri!» «Siamo a cinquecento chilometri dalla salvezza!» mormorò Brandon. «Ed è come se fossimo a un milione e più! Se almeno ci fosse un modo per uscire dall'orbita adottata da questo frammento della malora!» Potessimo, che so, riuscire a darci una spinta per iniziare la caduta. Non correremmo certo il pericolo di andare a fracassarci su Vesta, perché quella pallottola lì non ha nemmeno la gravità sufficiente a schiacciare una meringa. «Ne ha abbastanza per mantenerci in orbita!» ribatté Moore. «Deve averci agganciati mentre eravamo privi di sensi dopo lo scontro! Magari fosse successo mentre eravamo più vicini! Forse saremmo riusciti addirittura ad atterrare!» «Strano posto, Vesta!» osservò Mike. «Ci sono sceso un paio di volte! È ricoperto di una sostanza che sembra neve, solo che non è neve! Non mi ricordo come la chiamano!» «Anidride carbonica secca?» suggerì Moore. «Ecco, sì, ghiaccio secco, insomma. Dicono che per questo Vesta è così lucente!» «Naturale! Dovrebbe conferirgli un'albedine elevata!» Mike sberciò Moore con occhio sospettoso, poi pensò ben di lasciar perdere. «È difficile vedere qualcosa a causa della neve, ma se si guarda attentamente...» indicò... «Laggiù si vede una specie di macchia grigia. Credo sia la cupola di Bennett!» «E quella dove c'è l'osservatorio!» «E più in là c'è Calorn, che sarebbe poi una stazione di rifornimento!» «Ci sono diverse altre installazioni, solo che non si vedono!» Esitò, poi si rivolse a Moore. «Senta, capo, pensavo una cosa. Non crede che ci staranno cercando, avendo saputo dell'incidente?» «Non dovrebbe essere abbastanza facile trovarci da Vesta, visto che siamo così vicini?» Moore scuoteva la testa. «No, Mike, è impossibile che ci stiano cercando. Capiranno che c'è stato un incidente soltanto quando, al momento fissato, la Silver Queen non arriverà. «Vedi, quell'asteroide ci ha urtati, non abbiamo avuto tempo di lanciare un SOS!» Sospirò. «Ne possiamo sperare che da Vesta ci vedano! Siamo talmente piccoli che nemmeno a questa distanza potrebbero vederci, a meno che non sapessero cosa cercare e dove cercarla esattamente!» Mike corrugava la fronte riflettendo intensamente. «Allora dobbiamo assolutamente atterrare su Vesta prima che i tre giorni passino!» «Hai toccato il nocciolo della questione, Mike. Ora, se soltanto sapessimo come procedere!» Improvvisamente Brandon proruppe. «Volete finirla, voi due, con questo chiacchierio infernale e fare piuttosto qualcosa? Facciamo qualcosa, per amor di Dio!» Moore alzò le spalle e, senza rispondere, se ne tornò alla cuccetta. Si adagiò comodamente in apparenza calmissimo, ma una ruga sottilissima in mezzo agli occhi tradiva l'interna concentrazione. La situazione era tragica. Su questo non c'era alcun dubbio. Moore passò in rassegna agli eventi del giorno innanzi. Dopo che l'asteroide li aveva urtati sfasciando completamente la nave, lui aveva perso i sensi. Per quanto tempo non lo sapeva, perché perfino il suo orologio da polso si era rotto e degli altri non se ne era salvato nessuno. Ripresi sensi aveva scoperto che Mark Brandon, con il quale divideva la cabina, Mike Shee, un membro dell'equipaggio e degli stesso, erano i soli occupanti di tutto ciò che era rimasto della Silver Queen. Il troncone salvatosi stava ora girando in un'orbita attorno a Vesta. Al momento disagi in complesso non se ne avvertivano. C'era una provvista di cibo sufficiente per una settimana. C'era altresì un gravitatore regionale proprio sotto la cabina che li manteneva in condizioni di peso normali e avrebbe continuato a farlo a tempo indeterminato, sicuramente più a lungo di quanto sarebbe durata l'aria. L'illuminazione era meno soddisfacente, ma finora aveva tenuto. C'era poco da sbagliare in ogni modo nel definire il vero tallone d'Achille. Tre giorni d'aria soltanto. Non che non vi fossero altri inconvenienti gravi. Mancava il riscaldamento, per esempio, anche se ci sarebbe voluto abbastanza tempo perché la nave disperdesse calore nel vuoto aggravando così la loro situazione. Assai più grave era il fatto che il troncone di nave salvatosi non avesse né mezzi di comunicazione né un meccanismo propulsore. Moore sospirò. Un unico ugello in condizioni di funzionare avrebbe sistemato tutto perché sarebbe bastata una spinta nella direzione giusta a farli atterrare sani e salvi su Vesta. La ruga tra i suoi occhi si approfondì. «Fare qualcosa? Ma che cosa?» Fra tutti e tre possedevano una sola tutta spaziale, un'unica pistola a raggi e un solo detonatore. Era tutto lì l'elenco degli accessori spaziali dopo un'accurata ricerca nelle parti accessibili della nave. Moore scrollò le spalle, si alzò e si versò un bicchiere d'acqua. Lo vuotò meccanicamente, sempre immerso nelle sue riflessioni, quando un'idea lo colpì. Guardò incuriosito la tazza vuota che aveva in mano. «Dì, Mike, come stiamo approvvista d'acqua?» domandò. «Strano che mi venga in mente soltanto ora». Mike sgranò gli occhi al massimo. «Non lo sa, capo». «Cosa?» domandò Moore con impazienza. «L'abbiamo ancora tutta l'acqua che c'era». Agitava la mano in un gesto ampio. Aspettò un attimo. Poi, siccome l'espressione di Moore non mostrava altro che perplessità, elaborò il concetto. «Non vede?» «Si è salvato il serbatoio principale. La cisterna dove era immagazzinata l'acqua di tutta la nave». Indicava una delle paratie. «Vuoi dire che lì c'è una cisterna piena d'acqua?» Mike assentì vigorosamente. «Sì, un serbatoio cubico di 30 metri per lato. Ed è pieno per tre quarti. Moore era esterefatto». «Dici sul serio? Sono circa 20.000 metri cubi». Poi, bruscamente, «Perché non è defluita attraverso le tubature spezzate?» «C'è un'unica tubatura principale che corre lungo il corridoio, proprio all'esterno di questo locale. Quando l'asteroide ci ha colpiti, stavo appunto aggiustando quella condottura. Così avevo dovuto chiuderla. Una volta rinvenuto, ho aperto soltanto il tubo che porta l'acqua al nostro rubinetto, ma è l'unico che si è aperto ora». «Ah!» Moore, nel suo intimo, avvertiva una curiosa sensazione. Sentiva che un'idea si era in parte formata nel suo cervello, ma non riusciva assolutamente a farla fiorare e prendere consistenza. Sapeva soltanto che qualcosa, in ciò che aveva appena scoperto, aveva un significato importante, ma proprio non poteva individuarlo. Brandon, nel frattempo, aveva ascoltato le parole di Shee in silenzio e all'improvviso diede una risata breve e senza allegria. «Pare che il destino si voglia divertire a nostre spese, vedo. Prima ci fa arrivare a un tiro di schioppo dal luogo della salvezza e poi fa in modo che non abbiamo alcun mezzo per arrivarci. Ci fornisce di cibo per una settimana, di aria per tre giorni e della provvista d'acqua di un anno intero. Acqua per un anno, capite? Acqua a volontà per bere, gargarizzarci, fare il bucato, fare il bagno e chi più ne ha più ne metta. Acqua. Maledetta l'acqua! «Via, Mark, non prendere tutto sul tragico!» disse Moore. «Facciamo conto d'essere un satellite di Vesta. E lo siamo in fondo. Abbiamo un nostro periodo di rotazione e di rivoluzione. Abbiamo un equatore e un asse. Il nostro polo nord si trova su per giù verso l'alto del portello e punta verso Vesta. Il nostro sud si trova all'incirca al di là della cisterna in direzione opposta a Vesta. «Bene, come satellite abbiamo un'atmosfera e ora, come vedi, abbiamo scoperto d'avere anche un oceano. Scherzi a parte, non siamo poi così malmessi. Per tre giorni la nostra atmosfera durerà. Possiamo consumare razioni doppie e bere fino a gonfiarci lo stomaco. Abbiamo acqua da gettar via!» L'idea fino a qualche istante prima in embrione maturò all'improvviso e si concretò. Il gesto non curante con cui Moore aveva accompagnato quell'ultima osservazione si cristallizzò a mezz'aria. Moore gettò bruscamente indietro la testa e serrò la bocca di scatto. Ma Brandon, immerso nei propri pensieri, non notò affatto lo strano comportamento dell'altro. «Perché non completi la tua analogia tra noi e un satellite?» scattò quasi con un ringhio. «Oppure, come ottimista di professione, ignori tutti i fatti sgradevoli?» «Se fossi in te, continuerei così!» prese a imitare la voce di Moore. «Il satellite è al momento abitabile e abitato, ma, a causa dell'imminente deterioramento dell'atmosfera che si esaurirà in tre giorni, è destinato a trasformarsi in un mondo morto.» «Beh, perché non dici niente? Perché ti ostini a prenderla come se fosse uno scherzo?» «Ma insomma, che cosa ti prende ora?» Quell'ultima domanda era stata fatta in tono di sorpresa e in verità Moore si stava comportando in modo da destare meraviglia. Improvvisamente si era alzato e, dopo essersi dato una tremenda manata sulla fronte, era rimasto immobile e silenzioso a fissare nel vuoto. Brandon e Mike Shee lo guardavano ammutoliti per lo stupore. «Ah, ci sono!» proruppe tutto d'un tratto Moore. «Come ho fatto a non pensarci subito?» Poi il suo soliloquio si trasformò in un borbottio incomprensibile. Mike gli mostrò la bottiglia di Jabra fissandolo con un'occhiata interrogativa, ma Moore, spazientito, gli fece segno di rimetterla via. Al che Brandon senza preavviso gli sferrò un pugno cogliendo in pieno viso Moore che non se l'aspettava e mandandolo lungo disteso al suolo. Moore gemette massaggiandosi il mento. In tono indignato domandò «Potrei sapere il motivo, almeno?» «Alzati e te ne do un altro!» urlò Brandon. «Io non resisto più. Sono stufo marcio di subirmi le tue prediche e di ascoltare i tuoi discorsi da sognatore. Sei tu quello che sta per dare i numeri!» «Ma che numeri d'Egitto! Sono soltanto un po' sovreccitato, niente di più. Statemi a sentire, per amor di Dio. Credo di sapere in che modo...» Brandon gli lanciò uno sguardo minaccioso. «Ah, davvero, eh? Ora ci manca solo che ci fa illudere con qualche tuo piano idiota. Non voglio sapere niente, hai capito? So io come usarla tutta quell'acqua, altrimenti... Ti ci annego dentro, così risparmieremo anche un po' d'aria!» Moore perse completamente la pazienza. «Una buona volta, Mark, mi hai seccato. Levati di torno. Non ho bisogno del tuo aiuto né lo voglio. Posso benissimo cavarmela da solo. Se sei tanto sicuro di morire e ne hai tanta paura, perché non abbrevi l'agonia? Abbiamo una pistola raggi e un detonatore, due armi di sicuro affidamento. Scegli quale vuoi usare e suicidati. Mai che io non te lo impediremo di sicuro!» Brandon stirò le labbra in un'ultima, debole smorfia di sfida, poi all'improvviso capitolò in modo totale e vile. «Va bene, Warren, sono con te. Io ho agito così senza sapere nemmeno io quello che facevo. Non mi sento bene, Warren. Sono... sono... Via, ragazzo, ti capisco. Moore era sinceramente impietosito. Cerca di calmarti. So benissimo quello che provi. Sono disperato anch'io quanto te. Ma devi lottare. Altrimenti finirai davvero per impazzire. So, cerca di riposare ora e lascia fare a me. Forse le cose si aggiusteranno. Brandon premendosi una mano sulla fronte, barcollò fino alla cucetta e vi si lasciò cadere. Singhiozzi soffocati lo scuotevano in tutta la persona, mentre Moore e Shee imbarazzati si tenevano in disparte e in silenzio. Alla fine, Moore toccò nel gomito Mike. «Vieni», bisbigliò. «Diamoci da fare. Dobbiamo perlustrare il relitto. Il portello stagno numero 5 è in fondo a questo corridoio, vero?» Shee assentì e Moore continuò. «È ancora a perfetta tenuta». «Beh», disse Shee dopo averci pensato un istante. «La porta interna lo è, naturalmente. Ma su quella esterna non ci giurerei. Per quello che ne so potrebbe essere un colabrodo. Sa, quando ho controllato se la paratia era ancora tenuta stagna, non ho osato aprire la porta interna, perché se quell'esterna era per caso partita...» «Ale!» Il gesto che accompagnò la conclusione era molto espressivo. «Allora non ci resta che controllare lo stato di quella porta. Devo assolutamente uscire all'esterno e ci toccherà per forza a correre dei rischi. Dov'è la tuta spaziale?» Tirò fuori l'unica tuta dall'apposito stipo, se la gettò in spalla e uscì per primo nel lungo corridoio che correva di fianco alla cabina. Oltrepassò porte chiuse e dietro le cui barriere a tenuta stagna c'erano quelli che un tempo erano stati gli alloggi dei passeggeri, ma che ormai erano delle semplici cavità aperte sullo spazio. Al termine del corridoio c'era la porta stagna del portello 5. Moore si soffermò a esaminarla attentamente. «Sembra in perfetto stato», osservò. «Ma naturalmente non possiamo sapere in quali condizioni all'esterno». «Dio, speriamo che sia intatto», aggrottò la fronte. «Alla peggio potremmo usare l'intero corridoio come compartimento stagno, tenendo questa come porta esterna e quella della nostra cabina come porta interna. Ma questo vorrebbe dire rimetterci metà della nostra provvista d'aria. Non possiamo permettercelo per ora». Si rivolse a sci. «Forza, vediamo». L'indicatore mostra che l'ultima volta il portello è stato usato come entrata, per cui il compartimento dovrebbe essere pieno d'aria. Apri la porta appena di una fessura e se senti il sibilo dell'aria che sfugge, richiudi subito. «Ecco fatto, capo». E la leva si spostò di uno scatto. Il meccanismo era stato scosso violentemente in seguito al tremendo urto e i suoi congegni, un tempo silenziosissimi, ora facevano udire una specie di rumore raschiante, ma il funzionamento non era rimasto compromesso. Una sottile linea nera apparve lungo il lato sinistro del portello, segnando il punto dove la porta era scivolata in là di qualche millimetro. Non c'era alcun sibilo. Sul volto di Moore l'ansia apparve attenuarsi un po'. Estratto un pezzetto di carta dalla tasca, egli provò ad appoggiarlo contro la fessura. Se vi fosse stata una fuga d'aria, il pezzetto di carta avrebbe aderito alla porta tenuto là dal risucchio. Invece cadde a terra. Mike Shee si mise un dito in bocca e provò ad accostarlo alla fessura. «Dio sia lodato!» mormorò con un sospiro di sollievo. «Non c'è traccia di corrente. Benissimo. Apriamo un po' di più allora. Coraggio!» Un altro scatto della leva e la fessura si allargò. Niente corrente, nemmeno ora. Lentamente, uno scatto alla volta, il portello interno continuò a scorrere sulla guida, mentre l'apertura si faceva sempre più larga. I due uomini trattenevano il respiro, nel timore che, pur non essendo materialmente sforacchiato, il portello esterno potesse essere indebolito al punto da cedere da un momento all'altro. Ma teneva. Moore era giubilante mentre si infilava nella tuta. «Le cose vanno bene finora, Mike. Tu siediti qui e aspettami. Non so quanto ci metterò, ma prima o poi sarò di ritorno. Dov'è la pistola Raggi? L'hai tu?» Scegliela porse e domandò, «Ma che cos'è intenzione di fare, capo? Mi piacerebbe saperlo». Moore smise per un attimo di assestarsi il casco. «Hai sentito di là quando ho detto che avevamo acqua da buttar via? Bene, ci ho pensato su e ho capito che non era una cattiva idea. Ho deciso di provare a buttarla via». Senza altre spiegazioni, si portò nel compartimento stagno, lasciando dietro di sé Mike con gli occhi fuori della testa. Con il cuore in gola, Moore aspettava ora che il portello esterno si aprisse. Il suo piano era straordinariamente semplice, ma poteva non essere facile da mettere in pratica. Si udì un rumore di ingranaggi che cigolavano e facevano udire una serie di scatti. L'aria cominciò a sfuggire risucchiata dal vuoto esterno. La porta davanti a Moore si aprì lentamente di alcuni centimetri e si inceppò. Moore all'istante si sentì morire al pensiero che più di così il congegno non potesse aprirla. Ma dopo diversi scossoni preliminari, la barriera esterna riprese a scivolare spalancandosi. Moore mise in funzione il rampone magnetico e con estrema cautela avventurò un piede nello spazio. Poi, goffamente, brancolò fino a portarsi all'esterno della nave. Era la prima volta che si arrischiava uscire nello spazio e un pauroso senso di sgomento si impossessò di lui mentre a modo insetto si teneva aggrappato al suo appiglio. Per un momento venne sopraffatto da un senso di vertigine. Chiuse gli occhi e per cinque minuti rimase sospeso là, premuto contro la liscia superficie di quella che una volta era stata la Silver Queen. Il rampone magnetico lo teneva saldamente e quando riaprì gli occhi, Moore si accorse di ritrovare a poco a poco un senso di sicurezza. Si guardò intorno. Per la prima volta, dopo l'urto, scorgeva le stelle invece che la visione di vesta che il finestrino di bordo consentiva. Frugò ansiosamente i cieli alla ricerca del puntolino bianco-azzurro che era la Terra. Spesso l'aveva divertito il fatto che la Terra fosse sempre il primo oggetto cercato dai viaggiatori dello spazio quando osservavano gli astri, ma in quel momento il lato comico della situazione non lo colpì. La sua ricerca era vana in ogni modo. Dal punto dove egli si trovava, la Terra era invisibile. Insieme al Sole doveva essere nascosta da vesta. C'erano però tante altre cose che non poté fare a meno di notare. Giove era spostato sulla sinistra, globo brillante delle dimensioni di un pisello, visto così a occhio nudo. Moore riconobbe anche due dei satelliti. Inoltre era visibile Saturno, brillante pianeta di una certa grandezza che rivaleggiava con Venere così come appaiono visti dalla Terra. Moore si era aspettato che almeno un discreto numero di asteroidi fosse visibili, alla deriva come erano nella cintura degli asteroidi, ma lo spazio appariva sorprendentemente deserto. A un tratto gli sembrò di vedere un corpo sfrecciar via a qualche chilometro di distanza, ma fu un'impressione talmente fuggevole da non poter giurare che non si fosse trattato di uno scherzo della fantasia. Infine, naturalmente, c'era vesta. Quasi direttamente sotto di lui si delineava come un pallone che riempisse un buon quarto del cielo. Galleggiava ben fermo nello spazio, bianco come la neve, e Moore lo fissava con struggente bramosia. Pensava che un buon calcio sferrato con forza contro la superficie esterna della nave sarebbe forse bastato a dargli l'avvio per poter scendere in caduta libera su vesta. Chissà, forse sarebbe riuscito ad atterrarvi sano e salvo e a ottenere aiuto per gli altri due. Ma era troppo grande il rischio di ricominciare a girare in una nuova orbita intorno a vesta. No, bisognava tentare qualcosa di più sicuro. Questo gli fece rammentare che non aveva tempo da perdere. Scrutò l'esterno del relitto cercando dove fosse la cisterna, ma non riuscì a scorgere altro che una giungla di paratie sporgenti, frastagliate, accartocciate e appuntite. Esitò. Evidentemente l'unica cosa da fare era di raggiungere il finestrino illuminato del loro locale e di là procedere fino al serbatoio. Con precauzione prese a strisciare lungo la superficie esterna dell'astronave. A meno di cinque metri dal portello stagno la levigatezza compatta cessò bruscamente. C'era una sbadigliante cavità che Moore riconobbe come il locale che un tempo era stato attiguo all'ultimo tratto di corridoio. Rabbrividì. E se in una di quelle cabine squarciate si fosse imbattuto in qualche cadavere gonfio e sfigurato? Aveva avuto occasione di conoscere quasi tutti i passeggeri, molti dei quali erano suoi amici. Ma riuscì a vincere la propria schizzinosità e si costrinse a continuare il suo precario tragitto fino alla meta fissata. E a questo punto incontrò la prima materiale difficoltà. Il locale in sé era formato in molte parti di materiale non ferroso. Il rampone magnetico era destinato a far presa soltanto sugli scafi esterni e diventava inutile attraverso buona parte degli interni della nave. Moore se ne ricordò quando, all'improvviso, si ritrovò a fluttuare giù per una superficie in pendenza con il rampone fuori uso. Trattenendo il respiro si afferrò una vicina sporgenza e lentamente riuscì a sospingere se stesso di nuovo in salvo. Per qualche istante rimase addossato là, quasi senza fiato. In teoria sarebbe dovuto essere senza peso là nello spazio, la trazione di vesta essendo trascurabile. Ma il gravitatore regionale al di sotto di quel locale era ancora in funzione. Senza l'equilibrio degli altri gravitatori, tendeva a sottoporlo a forze improvvise variabili, a mano a mano che egli cambiava posizione. C'era il rischio, qualora il rampone si fosse allentato all'improvviso, di venire completamente strappato via dalla nave. Come fare in tal caso? Evidentemente l'impresa sarebbe stata anche più difficile di come lui l'aveva immaginata. Prese a strisciare in avanti con estrema precauzione, saggiando ogni punto per assicurarsi che il rampone tenesse. A volte era costretto a fare lunghi giri complicati per guadagnare appena qualche metro di vantaggio, oppure doveva per forza arrischiarsi a superare piccoli tratti in cui non c'erano materiali ferrosi. E sempre c'era da vincere la faticosa forza del gravitatore, che cambiava continuamente direzione via via che lui procedeva, imprimendo a pavimenti orizzontali e a pareti verticali bizzarre e imprevedibili pendenze. Moore esaminava con cura tutti gli oggetti in cui si imbatteva, ma era una ricerca sterile. Sedie, tavoli e altri suppelletteli non fissate erano stati scaraventati via in seguito all'urto, ed erano adesso corpi indipendenti del sistema solare. Gli riuscì tuttavia di raccattare un piccolo cannocchiale e una stilografica. Si mise i due oggetti in tasca. Non avevano alcun valore nelle condizioni attuali, ma in qualche modo sembravano rendere più reale quel macabro viaggio attraverso le superfici esterne di una nave spaziale morta. Per quindici minuti, venti, mezz'ora, Moore arrancò penosamente verso il punto dove riteneva dovesse trovarsi l'oblò. Il sudore gli colava negli occhi e gli incollava i capelli alla fronte. I muscoli cominciavano a dolergli sotto lo sforzo inconsueto. La mente, già provata dall'incubo del giorno innanzi, minacciava di vacillare e di giocargli strani scherzi. Quello strisciare cominciò a sembrargli eterno, qualcosa che era sempre esistito e che dovesse protrarsi per sempre. Lo scopo del viaggio, quello al quale tendevano i suoi sforzi, sembrava privo di importanza. Moore capiva soltanto che era necessario muoversi. Il tempo in cui, appena un'ora prima, egli era ancora con Brandon e con Shee, gli sembrava ora nebuloso e perduto in un passato lontanissimo, quell'altro tempo più normale, durato fino a due giorni prima, era completamente scomparso dalla sua memoria. Soltanto le paratie lacerate che gli stavano dinanzi, soltanto la vitale necessità di arrivare a una destinazione ancora incerta, esistevano nel suo cervello intumulto. Aggrapparsi, far forza, trascinarsi, saggiare le superfici, inarpicarsi, calarsi in fondo a buche che un tempo erano state cabine e poi tornare ed emergerne. Saggiare e trascinarsi, saggiare e trascinarsi, ed ecco una luce. Moore si fermò. Se il rampone non avesse tenuto saldamente, sarebbe caduto nel vuoto. Quella luce, chissà perché, parve chiarire le cose. Quello era l'oblò. Non uno dei molti occhi bui e ciechi che aveva oltrepassato, ma un finestrino vivo che mandava luce. Dietro di quello c'era Brandon. Moore prese un profondo respiro e si sentì meglio, con la mente molto più lucida, e la strada ora si stendeva aperta davanti a lui. Prese a strisciare verso quella scintilla di vita, sempre più vicino, sempre più vicino, finché poté toccarla. C'era arrivato. I suoi occhi non si saziavano di contemplare la stanza all'interno. Quell'ambiente familiare, Dio lo sapeva, non si associava ad alcun ricordo felice nella sua mente, ma era qualcosa di reale, quasi qualcosa di naturale. Brandon dormiva nella cuccetta. La sua faccia era attirata e segnata, ma a tratti sembrava sorridere nel sonno. Moore alzò il pugno per bussare. Sentiva il bisogno irresistibile di comunicare con qualcuno, non fosse che assegni. Tuttavia, all'ultimo istante rinunciò. Forse il ragazzo stava sognando casa sua. Era giovane, sensibile, aveva sofferto molto. Meglio lasciarlo dormire. Ci sarebbe stato tutto il tempo di svegliarlo quando e se il progetto fosse andato a buon fine. Localizzò all'interno della cabina la paratia dietro la quale si trovava la cisterna dell'acqua che tentò poi di individuare dall'esterno. Ormai non era difficile. La parete posteriore del serbatoio sporgeva in maniera prominente. Moore si meravigliò perché gli sembrò un vero miracolo che la cisterna non fosse rimasta sforacchiata. Forse il fato non era stato così maligno come pensava Brandon. Spostarsi fin là era stato abbastanza facile pur dovendo arrivare sul lato opposto del relitto. Quello che un tempo era stato un corridoio conduceva quasi nel punto desiderato. Un tempo, quando la Silver Queen era stata un'astronave completa, quel corridoio era stato piano e orizzontale, mentre ora, sotto la spinta equilibrata del gravitatore regionale, sembrava più che altro un rapido pendio. E tuttavia, semplificava il percorso. Dato che era di un'informe lega metallica, Moore non incontrava difficoltà a rimanervi aggrappato mentre si inerpicava su per quei sei o sette metri fino alla riserva d'acqua. E ora l'ultimo stadio, quello cruciale, era stato raggiunto. Moore capiva che avrebbe dovuto prima di tutto riposare, ma non riusciva a dominare l'agitazione che cresceva rapidamente di intensità. doveva agire o andava a rischio di scoppiare. Si trascinò fino al centro del fondo della cisterna. Là, aggrappato al piccolo cornicione formato dal pavimento del corridoio che un tempo si estendeva lungo quel lato della cisterna, diede inizio all'operazione. Peccato davvero che il tubo di scarico principale punti nella direzione sbagliata. Mormorò. Fosse stato nella direzione giusta mi avrebbe risparmiato molta fatica. Così, invece, sospirò e si chinò sul lavoro da compiere. La pistola raggio venne regolata sulla concentrazione massima e l'emanazione invisibile dell'arma diretta in un punto 30 centimetri più in su rispetto al pavimento del serbatoio. A poco a poco, l'effetto del calore intenso sulle molecole della paratia divenne avvertibile. Una macchia delle dimensioni di una monettina cominciò a luccicare debolmente nel punto dove il raggio colpiva. La luminosità oscillava incerta. Ora più tenue, ora più vivida, mentre Mormor si sforzava di tenere ben fermo il braccio stanco. Provò ad appoggiarlo al cornicione e subito ottenne risultati migliori. Il piccolo cerchio luminoso si faceva ora sempre più intenso. Lentamente il colore percorreva lo spettro. Il rosso cupo e livido apparso in un primo momento si rischiarò fino a diventare color ciliegia. A mano a mano che il calore continuava ad affluire, la luminosità sembrava largarsi in cerchi concentrici sempre più larghi, come un bersaglio formato da altrettante gradazioni di rosso. La paratia, per una distanza di circa un metro dal punto focale, stava arroventandosi pur senza cambiar colore. e ora Moore doveva stare attento a non toccarla con il metallo della sua tuta. Moore imprecava più non posso perché il cornicione stesso cominciava a surriscaldarsi. Quelle imprecazioni rappresentavano la sua sola valvola di sfogo e mentre la paratia, nel fondersi, cominciava a sua volta a irradiare calore, l'oggetto principale delle maledizioni erano i fabbricanti di tute spaziali. Perché non costruivano tutte che servissero a proteggere dal calore oltre che a conservare il calore all'interno. Ma quello che Brandon definiva ottimismo professionale si imponeva nonostante tutto. Con in bocca il gusto salato del sudore, Moore cercava di consolare se stesso. Poteva andar peggio tutto sommato. Se non altro lo spessore di 5 centimetri della paratia in questo punto non presenta una barriera insormontabile. Mettiamo che la cisterna fosse stata costruita a livello dello scafo esterno. Povero me! Figuriamoci che vita cercare di perforare uno spessore di 30 centimetri. E intanto stringeva i denti e teneva duro. Il punto di luminosità stava ora diventando di un arancione giallastro e Moore capì che il punto di fusione della lega di berillo e acciaio stava per essere raggiunto. Adesso era costretto a osservarla soltanto a intervalli e per fuggevoli istanti. Bisognava assolutamente che il lavoro si concludesse alla svelta. Pena il fallimento di tutti gli sforzi. La pistola raggi non era completamente carica quando l'operazione era iniziata e a forze di emettere energia al massimo come stava facendo da più di 10 minuti si stava rapidamente esaurendo. La paratia però stava attraversando solo ora la fase plastica. In una febbre di impazienza Moore conficcò la canna della pistola nel centro della macchia ritirandola poi velocemente. Nel metallo ormai molle rimase una profonda depressione che tuttavia non era ancora un foro. Moore in ogni modo era soddisfatto. Quasi ci siamo pensava. Se vi fosse stata aria tra lui e la paratia indubbiamente si sarebbe udito il gorgogliare e il sibilare dell'acqua che bolliva all'interno. La pressione si stava accumulando. Quanto avrebbe resistito ancora la paratia così indebolita? Poi così all'improvviso che egli lì per lì non se ne rese conto l'opera si compì. Una minuscola crepa si formò in fondo al piccolo incavo fatto dalla canna della pistola e in men che non si dica l'acqua che ribolliva all'interno si aprì un varco. In quel punto il metallo liquido effuso formò una bolla e scoppiò sporgendo poi frastagliato e lacero attorno a un foro non più grande di un pisello e da quel foro insieme a un sibilo fragoroso prese a emergere una nuvola di vapore. Murr attraverso la nebbia che lo avvolgeva vedeva il vapore condensarsi quasi all'istante in gocce di ghiaccio e vedeva quei pallini ghiacciati rimpicciolire rapidamente fino a dissolversi. Per un quarto d'ora rimase a guardare il vapore che usciva poi divenne consapevole della lieve pressione che tendeva a spingerlo lontano dal rilitto. Una gioia selvaggia si gonfiò dentro di lui perché si stava rendendo conto che quella spinta era effetto di un'accelerazione da parte della nave. Era la sua stessa inerzia a trattenerlo. Questo voleva dire che il lavoro era stato compiuto e con successo quel getto di vapore sostituiva la propulsione dei razzi. Si accinse a rientrare. Se gli orrori e i pericoli del tragitto fino al serbatoio erano stati grandi quelli del ritorno dovettero essere immensi. Moore era infinitamente più stanco i suoi occhi doloranti erano quasi ciechi e ora ai capricci bizzarri del gravitatore si aggiungeva la forza indotta dall'accelerazione variante del relitto. Ma per quanto fossero in mani quelle fatiche non avevano il potere di scoraggiarlo. In seguito non avrebbe serbato memoria di quel percorso massacrante. Come riuscì a coprire la distanza senza incidenti non lo seppe mai. Per la maggior parte del tempo procedeva smarrito in una sorta di nebbiosa euforia sia no consapevole della gravità della situazione. La sua mente era occupata da un unico pensiero tornare indietro rapidamente per comunicare agli altri la felice novità dell'imminente salvezza. All'improvviso si ritrovò davanti al portello a stento afferrò il fatto che quello era il portello. Quasi non capì perché stava premendo il pulsante. Un istinto misterioso gli diceva di farlo. Mike Shee stava aspettando. Vi fu un cigolio e un rumore sordo. La porta esterna cominciò ad aprirsi, si inceppò come aveva fatto in precedenza ma ancora una volta riuscì a scivolare sulla guida fino ad aprirsi del tutto. Si chiuse infine dietro di mur. poi la porta interna si aprì ed egli cadde in avanti tra le braccia di Shee. Come in un sogno si sentì in parte tirare, in parte trascinare lungo il corridoio fino in cabina. La tuta gli venne strappata via, un liquido ardente e pungente gli scivolò in gola. Tossì, inghiottì e si sentì meglio. Shee fece nuovamente sparire in una tasca la bottiglia di Jabra. Davanti agli occhi di Moore le immagini sfocate e fluttuanti di Brandon e di Shee si stabilizzarono, si solidificarono. Con mano tremante si asciugò il sudore dalla fronte e si sforzò di sorridere. Aspetta, protestò Brandon. Non dire niente, sembri mezzo morto, riposati prima. Ma Moore scosse la testa. Con voce rauca e alterata narrò come meglio gli fu possibile gli eventi di quelle ultime due ore. era un resoconto incoerente, appena intellegibile, ma meraviglioso e commovente. I due ascoltatori lo seguivano con il fiato sospeso. Vuoi dire, balbettò Brandon, che quel getto d'acqua ci sta spingendo verso Vesta come lo scappamento di un razzo? È esattamente la stessa cosa, proprio lo scappamento di un razzo. Ansimo Moore, azione e reazione. È situato sul lato opposto a Vesta ed ecco perché ci spinge in direzione di Vesta. She stava ballando davanti al finestrino. Ha ragione lui, Brandon, si vede già la cupola di Bennet. Ora la si distingue perfettamente. Ci stiamo avvicinando, ci stiamo avvicinando. Moore cominciava a ritrovare le forze. Ci stiamo accostando lungo un percorso a spirale dall'orbita in cui ci trovavamo. Atterreremo probabilmente tra cinque o sei ore. L'acqua durerà ancora un bel pezzo e la pressione è ancora grande dato che l'acqua esce sotto forma di vapore. Vapore alla bassa temperatura dello spazio. Brandon era sorpreso. Vapore, sì, alla bassa temperatura dello spazio. Confermò Moore. Il punto di ebollizione dell'acqua diminuisce col diminuire della pressione. Nel vuoto è bassissimo, anzi. la tensione di vapore è tale, infatti, che perfino il ghiaccio riesce a sublimare. Sorrise. In pratica gela e bolle contemporaneamente. Ho potuto osservarlo con i miei occhi. Una breve pausa, poi... Bene, come ti senti ora, Brandon? Molto meglio, eh? Brandon arrossì, assunse un'espressione mortificata. Per qualche istante brancolò in vano alla ricerca delle parole adatte. Alla fine disse quasi in un bisbiglio. Sai, credo proprio ad aver agito come un idiota e un codardo. Io temo di non meritare tutto questo, dopo che ho perso la testa e ho lasciato che tutto lo sforzo per salvare la situazione gravasse sulle tue spalle. Vorrei che tu mi picchiassi per averti dato quel pugno. Mi sentirei meglio, forse. Dico sul serio. E sembrava veramente sincero. Moore gli allungò uno spintone affettuoso. Non pensarci più. Non saprai mai quanto sia stato vicino io stesso a perdere la bussola. Alzò la voce per sopraffare qualsiasi altro tentativo di scusarsi da parte di Brandon. Ehi, Mike! Piantala di guardar fuori da quello blò e porta qui quella bottiglia di jabra. Mike obbedì alacramente, portando con sé anche tre unità di plexatron da usare come bicchieri di fortuna. Moore li riempì tutti e tre proprio fino all'orlo. Era deciso a ubriacarsi per rivincita. Signori, disse solennemente, un brindisi. Tutti e tre alzarono i recipienti contemporaneamente. signori, brindo alla provvista di un anno di cara vecchia H2O che un tempo avevamo a bordo. di un anno di caratteristica. Grazie a tutti